Il 30 novembre del 1982 a San Giuseppe Ato era una giornata autunnale. Il grigio delle nuvole faceva apparire tutto cupo e triste. Quel giorno un gruppo di mafiosi, che era partito dal quartiere palermitano di Partana Mundello, a bordo di due auto, si stava dirigendo verso la contrata di D'Aunussi. Quei ragazzi stavano andando lì perché dovevano partecipare a un pranzo organizzato da Salvatore Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Quel pranzo era stato organizzato per festeggiare la presa del potere dei Corleonesi. A bordo di quelle due auto c'erano Salvatore Michalizzi, Vincenzo Catella, Carlo Savoca e soprattutto Rosario Riccobono, il potente boss del mandamento di Partana Mundello. I quattro li devono e scherzavano, erano convinti di andare a una festa e invece... In questo video approfondiremo quello che è successo il 30 novembre del 1982, nella contrata di D'Aunussi, che è una frazione di San Giuseppe Ato. Quel giorno, in una delle tante masserie di quella contrata, venne ucciso il capo della famiglia mafiosa di Partana Mundello, Rosario Riccobono. Insieme a lui vennero uccisi tre dei suoi uomini. Ma prima di parlare di quello che avvenne in quella masseria, vi voglio raccontare brevemente la storia di Rosario Riccobono. E perché finì nel mirino di Salvatore Reina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Rosario Riccobono, che in Cosa Nostra tutti chiamavano semplicemente Don Saro, era il potente capo della famiglia mafiosa di Partana Mundello. Era un mafioso dai vecchi ideali. Crebbe proprio tra i quartieri di Pallavecino, Partana e Mundello. Non si sa quando venne combinato in Cosa Nostra, ma si sa di sicuro che già nella metà degli anni settanta era uno dei boss più influenti di Cosa Nostra. Per il suo modo di agire e di fare, il potente boss di Villa Grazia Stefano Boldate lo soprannominò il terrorista. Rosario Riccobono aveva un forte carisma sui suoi uomini, tanto che questi gli giurarono eterna fedeltà. Nessuno dei suoi uomini lo ha mai tradito. Durante l'ascesa in Cosa Nostra di Salvatore Riina, Rosario Riccobono decise di rimanere neutrale. Non voleva schierarsi con i collonesi, ma non voleva nemmeno stare dalla parte dei suoi amici palermitari. Si limitava a gestire solo gli interessi del mandamento di Partana Mundello. Ma nel gestire gli interessi del mandamento di Partana Mundello, senza rendersene conto, prese un paio di decisioni che lo fecero finire nel mirino dei collonesi. Rosario Riccobono nel 1976 fece mettere fuori famiglia Armando Bonanno, che faceva parte della famiglia mafiosa di Le Suttana, e Giacomo Giuseppe Cammino, che invece faceva parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo. Li fece mettere fuori famiglia perché questi parteciparono a un agguato nella provincia di Trapani, senza chiedere prima il suo permesso. Infatti le famiglie mafiose di Le Suttana e quelle di San Lorenzo erano due famiglie che facevano parte del suo mandamento. Don Salo non sapeva che Armando Bonanno, e soprattutto Giacomo Giuseppe Cammino, erano schierati dalla parte di Salvatore Rina. Il 18 giugno del 1977, Rosario Riccobono fece uccidere, per una questione d'onore, Angelo Graziano, che era il sottocapo della famiglia mafiosa di San Lorenzo. Anche in questo caso, aveva tolto di mezzo un'altra pedina importante di Salvatore Rina. Tottore Rina decise di non reagire subito, ma prima o poi avrebbe fatto pagare quelle scortesie a Rosario Riccobono. Dopo essere sfuggito a un attentato, il 23 aprile del 1981, Salvatore Rina dè inizio a una vera e propria mattanza contro coloro che volevano eliminarlo. Quel giorno venne ucciso Stefano Bondate, il principe di Villa Grazia, che era il capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Fu proprio Stefano Bondate a organizzare il fallito attentato contro Salvatore Rina. Il principe di Villa Grazia voleva eliminare Totò Kurt per porre fino alla sua ascesa in Cosa Nostra, ma le cose gli andarono male. Dopo Stefano Bondate, tocca a Salvatore Inzerillo. Totò Rina dite ordine che il della famiglia di Totuccio Inzerillo non doveva rimanere nemmeno insieme. E così venne esterminata gran parte della famiglia di Passo di Ricano. Ogni giorno tra le strade di Palermo c'erano 3, 4, 5 morti ammazzati. Totò Rina allargò il suo raggio d'azione. Prima voleva eliminare solo quelli che avevano partecipato al complotto per ucciderlo, ma poi decise di eliminare tutti coloro che non la pensavano come lui e che gli potevano creare dei problemi in Cosa Nostra. Così i vicoli di Palermo si colorarono rosso sangue. Per conoscere le mosse e avere gioco facile sui suoi avversari, Salvatore Rina aveva infiltrato degli uomini di fede corleonese in quasi tutte le famiglie mafiosi siciliane. In una sola non ci riuscì ed era la famiglia mafiosa di Partana Montello. Questo era il terzo motivo che spinse Salvatore Rina a volere la morte di Rosario Riccobono. Però prima decise di chiudere i conti con le famiglie palernitane che si erano schierate contro di lui. Anzi, si fece aiutare proprio da Rosario Riccobono ad eliminare gli ultimi slobbi vissuti delle famiglie Bondate e Inzerillo. Dopo la morte di Stefano Bondate e Salvatore Inzerillo, Rosario Riccobono capì che non poteva restare più neutrale. e decise di schierarsi dalla parte dei corleonesi. I corleonesi pretesero da parte sua un atto di fedeltà. Gli chiesero di attirare in trappola alcuni membri della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù che non riuscivano a trovare e Rosario Riccobono li accontentò. Tra questi, Rosario Riccobono attirò in una trappola Emanuele d'Agostino che era un fedelissimo di Stefano Bondate. Verso la fine del 1882 ormai Salvatore Rina aveva eliminato gran parte dei suoi nemici. Finalmente, poteva chiudere i conti con Rosario Riccobono e con la sua famiglia mafiosa. Salvatore Rina inviò un messaggio a Rosario Riccobono e gli disse che ormai Cosa Nostra era stata ripulita dai traditori e quindi si poteva far festa e soprattutto si potevano mettere le basi per costruire una nuova Cosa Nostra. E cosa c'era di meglio di una bella tavolata per festeggiare? Salvatore Rina nei mesi precedenti era riuscito a far credere a Dossaro da avere un grande ruolo nella sua Cosa Nostra. Rosario Riccobono non aveva capito e non aveva intuito di essere rimasto l'unico che poteva, in qualche modo, creare una resistenza contro i corleonesi e quindi era un nemico da eliminare. Inoltre, Tottò Rina voleva chiudere i conti con Dossaro sulle questioni del passato. Il tranello contro Rosario Riccobono e i suoi uomini scattò il 30 novembre del 1982. Quel giorno Rosario Riccobono si arrivò all'appuntamento con tre uomini ed erano il suo sottocapo Salvatore Michalizzi Vincenzo Cannella e Carlo Savoca. Adesso vi farò ascoltare prima le dichiarazioni di Giovanni Brusca su cosa avvenne quel giorno e poi vi farò ascoltare le dichiarazioni di Giuseppe Maniscalco. Giuseppe Maniscalco fu uno degli uomini che misero la corda attorno al collo di Rosario Riccobono. A un altro episodio. Lei ha fatto riferimento alla guerra di mafia ha fatto riferimento sia pure per un breve passaggio alla figura di Riccobono Rosario. Chi era Riccobono Rosario? Allora era capo capo mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale e San Lorenzo. Nell'ambito di quello che lei ha definito il contrapposto schieramento dei vincenti e dei perdenti degli uomini di Rine e degli uomini di Bontate il Riccobono Rosario prima della morte di Bontate Stefano come si collocava? Si collocava a neutrala. Quindi non era né con l'uno né con gli altri? Né con l'altro o apparentemente però Salvatore e Rina lo collocavano più a fare Bontate che con loro però era neutrale. Perché il suo padre e il Rina lo ritenevano più vicino sostanzialmente alle posizioni del Bontate che alle vostre? in base a quali elementi di fatto? L'evento di fatto io non conoscevo a quella data tutta la storia di Cosa Norsa loro sapevano più particolare ritenevano vicino l'inserirlo il Stefano Bontate più vicino come amicizia come rispetto per convergenze uniche con Rosario Riccobono con il gruppo Bontate Badalamenti e questi di qua. Ma quando muoiono vengono uccisi Salvatore Inserillo e Stefano Bontate il Riccobono Rosario partecipa a questa soppressione ha un ruolo ne viene informato successivamente qual è la posizione di Riccobono Rosario viene informato Rosario Riccobono viene informato Rosario Riccobono viene informato da parte di mio padre non so se dopo l'omicidio di Stefano Bontate o dopo quello di Inserillo viene informato da mio padre sotto indicazione a Salvatore Rina e a tutti quelli che erano là e l'appuntamento viene fatto a Morreale in una zona di Giacalone oggi proprietà di Fiore e Fiore Antonino dovrebbe essere lei era presente in quell'occasione sì e questo quando avviene questo incontro fra Salvatore Rina a quanto pare verrà anche suo padre e il Riccobono Rosario no Salvatore Rina non c'era c'era solo mio padre delegato dagli altri uomini d'onore di incontrarsi con Salvatore Riccobono e comunicargli quello che era successo dico questo a che distanza di tempo avviene rispetto alla morte di Stefano Bontate ripeto era successo credo dopo la morte più sicuramente dopo la morte di Inserillo di Salvatore quindi il Riccobono viene avvisato successivamente quindi mi pare di avere capito non ha partecipato all'eliminazione né del Bontate né del Salvatore Inserillo che posizione assume no completamente che posizione assume il Riccobono Rosario rispetto a queste novità ma Rosario Riccobono quando apprende i motivi per cui sono stati incisi due e motivi perché poi si doveva eseguire per tutti gli altri dice se i fatti stanno così io non posso prendere il chiatto e si è fatto giusto e sono a disposizione lei ha fatto adesso proprio adesso riferimento all'eliminazione di tutti gli altri a chi si è riferito? cioè gli altri poi si dovevano eliminare che sono persone vicino a Caetano Badalamente si dovevano eliminare che so Giovanello Greco Pietro Marchese cioè tutte le persone che in cui man mano si scoprivano che erano responsabili di questo complotto dovevano morire e quindi il Riccobono Rosario si mise a disposizione sì in sostanza il Riccobono Rosario è venuto a far parte dello schieramento dei Corleonesi sì e la alleanza con Salvatore Riccobono quanto tempo dura? l'alleanza con Salvatore Riccobono? sì con Rosario Riccobono fino al giorno della sua morte c'è la sua soppressione ma ci sono novità perché viene poi ammazzato? intanto lei sa che ha deciso la sua eliminazione? guardi lui a parte questo fatto che era ritenuto vicino a Stefano Bontate era ritenuto pure un confidente di polizia o di carabiniere quello che era più c'erano vecchi rancori di comportamento di Cosa Nostra in quanto lo ritenevo che era persona che aveva ucciso Angelo Graziano aveva messo fuori famiglia Giuseppe Giamogammino Armando Buonanno più quello che ho detto poco fa ritenuto confidente di polizia ritenuto vicino allo schieramento a questo schieramento di Bontate e compagni avari hanno deciso non so se mio padre Giuseppe Giamogammino cioè Michele Grieco non so se tutti però io il giorno della sua eliminazione ero pure presente e gli posso dire che erano presenti si fermi un attimo Brusca dove temi di immagine sospensione di un minuto Brusca stiamo riprendendo il suo esame mi sente lei stava parlando delle ragioni di contrasto passate che vi erano state nei confronti del Riccobono li vuole ripetere in estrema sintesi che motivi c'erano stati in passato di contrasto tra Riccobono Rosario e il gruppo facente capo Arriina e che poi nell'ambito della guerra di mafia assunse il ruolo di gruppo vincente quali contrasti vengono state lei dice non le ho conosciute perché la storia vecchia di Cosa Nostra mi è stata riferita in seguito come sintetizza lei le ragioni di contrasto fra il Rosario Riccobono e i Corleonesi c'era questo Angelo Graziano che era amico credo di Salvatore Lino Giuseppe Giacomo Gambino ed era stato a dire di costui era stato eliminato ingiustamente ed è stato con la scusa che questo si era comportato male era stato ucciso ingiustamente da parte di Sirio Riccobono secondo lui per togliere una spina dal fianco e l'aveva ucciso senza l'autorizzazione anche di competenza poi si diceva per esempio quello che mi dicevano che era confidente di polizia e quindi poteva passare del si riteneva come confidente di polizia aveva buttato fuori famiglia sospeso per il presidente Armando Bonanno e Giuseppe Giacomo Gambino in quanto erano stati arrestati a Castelvetrano ed erano fuori territorio senza aver avvertito il suo capofamiglia per tutti questi fatti e più per l'amicizia con Stefano Bondate e tutto il resto si è deciso di eliminarlo ma perché non venne eliminato subito visto che c'erano queste risalenti ragioni di contrasto non venne eliminato subito perché lo ritenevano lo ritenevano utile chissà questo potesse portare a qualcuno degli cosiddetti scappati che poi alla fine quando si è scoperto il piano molti sono scappati cioè i perdenti sono scappati e Riccobono si dette da fare per aiutare i corleonesi in questa opera di eliminazione degli avversari ma credo qualche cosa l'abbia fatto però non non so dirgli quanto so che si è messo a disposizione per eliminare qualcuno di Gallina di Carini che era vicino a Stefano Bondate credo che abbia partecipato organizzato pure l'omicidio di Maniele D'Agostino comunque ne ha fatto qualcosa però non li so dire con precisione cosa ha fatto quando viene ucciso Riccobono a distanza di quanto tempo dall'eliminazione del Bondate e dell'Inserillo novembre 82 lei ricorda la data esatta? 30 novembre perché mi è stata comunicata ce la conosco questa data dove viene ammazzato Riccobono e Rosario? incontrato da D'Ammusi lei le venne a conoscenza dopo o nelle settimane nei giorni precedenti era già a conoscenza del fatto che quel giorno poi incontrato da D'Ammusi avrebbe ucciso Riccobono sarebbe stato ucciso? no è stato organizzato il giorno prima o due giorni prima il tutto perché un piano era ucciso Riccobono e poi c'era tutta un'altra serie di omicidi che si dovevano commettere lei da chi ne viene a conoscenza? me ne viene a conoscenza perché ripeto il giorno prima due giorni prima c'è stata una piccola riunione incontrata da D'Ammusi tra cui c'era Giuseppe Giamabino mio padre Salvatore Rina quasi un po' studi di soldi non mi ricordo tutti però il gruppo era sempre questo e si era stabilito che dovevano portare al Riccobono e compagnia in D'Ammusi dopo di che gli avrei dovuto telefonare Antonino Madonia a Palermo a Palermo e Antonino Madonia con il segnale MIOS convenzionato avrebbe avrebbe commesso altri altri omicidi senta non ho capito il ricorsario Riccobono avrebbe dovuto essere ucciso a D'Ammusi Saro Riccobono e compagnia che significa compagnia perché è venuto assieme a altre tre persone non si sapeva con chi veniva però se veniva da solo veniva con due veniva con tre quantomeno due erano sicuri e ne sono venuti quella mattina quattro e invece non ho capito nemmeno lei avrebbe dovuto contattare telefonicamente e chi a Palermo Antonino Madonia dopo aver strangolato i quattro io avevo dovuto contattare Antonino Madonia che c'era il piano poi di uccidere il rimanente del gruppo Riccobono cioè della famiglia di Riccobono al loro vicino e allora lei era quindi contrata da Musi quando arrivò il Riccobono sì di chi è questa contrata da Musi dove arrivò il Riccobono la contrata da Musi è stata per un periodo e quando è successo il fatto era ancora di proprietà di Barbaro poi è stata comprata poi è stata ridata ai Barbaro anche se poi ho saputo che gliel'hanno sequestrata per un pezzo e poi c'è qualche precedimento in corso per motivi di confisto comunque il punto è quello dove è stato arrivato mio padre Bernardo Brusca ho capito senta ma chi eravate lei era presente quando arrivò il Riccobono sì sono io Dima Gio Baldassare Giuseppe Maniscalco Giuseppe Grigento Bernardo Bomarito Salvatore Lazio Giuseppe Grigo Scarpa Giuseppe Grigo Scarpa Giuseppe Grigento mio cugino Vito Brusca Pippo Galò Salvatore Rina Salvatore Rina Matteo Motisi Giovanni Motisi in questo momento non ho altri ricordi poi assieme a Riccobono è arrivato Filippo Nania Antonino Geraci Enene Geraci e Giuseppe Giammo bambino ho capito senta ma a che ora arrivarono di quel 30 novembre il Riccobono Rosario con le altre persone di mattina intorno alle 10 comunque di mattina 9 e mezzo 10 si ricorda che questa giornata era una giornata di sole se era calda se pioveva no era piovigginosa con quante auto arrivarono arrivarono là con due auto una Volvo di Filippo Nania con una Mini Minor e con una Golf che hanno lasciato un po' distante quindi arrivarono in totale tre auto una Volvo una Golf e una Mini Minor nella Volvo era di Filippo Nania l'ha detto lei chi viaggiava nella Volvo nella Volvo c'era Rosario Riccobono Filippo Nania Giuseppe Giammo Gambino e Nene Geraci e sulla Mini Minor? sulla Mini Minor c'era Toduccio Michalizzi Geraci Antonino Toduccio Michalizzi Geraci Antonino un certo Savo che un certo Cannella se non ricordo male e chi guidava l'E3? Cannello Carollo come dice? l'E3 o Cannello Carollo non mi ricordo preciso comunque uno di questi ma credo che sia Cannella l'E3 guidava il più piccolino dovrebbe essere Savoca no mi scusi un attimo abbiamo detto parlare della Volvo abbiamo parlato della Mini Minor e vuole ripetere che era nella Mini Minor Giuseppe Michele Michalizzi no Michele Roduccio Michalizzi il Savoca o il Cannella e Antonino Geraci l'altra autovettura era una Golf si e chi arrivò con questa Golf no la Golf era stata lasciata un po' più distante non era arrivato cioè nel caseggiato sono arrivato con due macchine per non sfollare troppo macchine questa macchina era stata lasciata un po' distante prima di arrivare nel caseggiato ma quanto prima la stradella saranno 150 metri 200 metri 300 metri cioè nella strada diciamo prima quella di prendere la stradella per entrare nel caseggiato quindi saranno 200 metri 150 metri questa è la linea di massimo ho capito quindi invece la Golf fino al punto in cui venne lasciata chi l'aveva condotta Filippo Nania stiamo parlando della Golf scusi ah la Golf no non l'ho visto chi la guidava la Golf in quel momento poi si sono messi tutte e due tutte e otto persone in due macchine e nel caseggiato sono arrivato con due macchine il riccobono era stato invitato da chi incontrata da un musi era stato invitato con una scusa di una mangiata veramente l'appuntamento era a Partinico e poi come al solito da Partinico sono stati portati a San Giuseppeato era fatta con la scusa di una mangiata era invitato da Salvatore Rina Giuseppe Nio con Cammino un po' da tutti per questa mangiata quindi anche in questo caso l'appuntamento al riccobono fu dato a Partinico sì per le stesse ragioni di cui poco anzi lei ha fatto riferimento riguardo al duplice omicidio di Inzerillo e di Maggio questo più che altro per motivi di c'era lo spavento di forze di polizia avrebbe dovuto dare la battuta di forze di polizia più che ai cosiddetti scappati e quindi far arrestare a tutti gli altri questo era un po' la preoccupazione anche agli scappati ci potrebbe fare il doppio gioco però prevalentemente era quella quindi la preoccupazione riguardo a ciò che avrebbe potuto fare il riccobono si posizione presidente sono la voto a su va bene l'opposizione è accolta pubblico mistero però vuole vuole far richiarire perché non è stato chiaro nella sua risposta alle ragioni per cui si ritenne di ha fatto riferimento che la riunione che il riccobono si regasse prima a Partinico e poi da Partinico doveva raggiunse San Giuseppe Iato le ragioni per cui lui ne ha conoscenza perché non si capisce si il brusca ha posto una serie di domande lui è stato molto sintetico io non l'ho percepito il significato il brusca ha fatto riferimento a preoccupazioni riguardo ad eventuali soffiate alla polizia vabbè glielo faccia chiedere a lui pubblico mistero brusca ripeta perché l'appuntamento al riccobono venne fissato a San Giuseppe Iato e poi da lì si trasferirono a San Giuseppe Iato perché qualche altro appuntamento qualche altra mangiata era stata fatta a Partinico questa volta le hanno dato un'altra volta l'appuntamento a Partinico e siccome c'era lo spavento che aveva potuto fare la soffiata alla polizia o carabinieri o dare fare doppio gioco con i cosiddetti scappati e quindi si preferì o che avrebbero lasciato dire alla famiglia sai siamo andando a tale punto si diede l'appuntamento a Partinico da Partinico Nene Giraci Antonino Giraci Filippo Nania se li sono messi in macchina e li hanno portati attraversando un po' di strade interne per pedere eventuali tracce li hanno portati a San Giuseppe Iato quindi temevano o l'intervento della polizia oppure il doppio gioco con degli scappati no? Perfetto con i perdenti con i perdenti senta ma dove venne dato l'appuntamento a Riccobono a Partinico? Presso quale luogo credo non lo so ma credo siccome penso allo svincolo di Partinico perché molti appuntamenti si erano stati fatti molti qualcuno è stato fatto nella vicinanza nella casa del fratello Astro di Gerace Antonino mi riferisco a un certo centenero siccome si può dire allo svincolo di Partinico credo l'appuntamento sia dato l'ai e poi sono perseguiti per San Giuseppe Iato Che cosa avvenne quando arrivò il Riccobono? Ricorda lei era presente alla scena dell'arrivo? Sì Che cosa avvenne? Quando sono arrivati quando è arrivato il Riccobono sono scesi dalla macchina subito con la scusa di salutarlo è stato invitato a entrare nella prima perché c'è questo caseggiato un po' è combinato a U è stato invitato ad entrare nel lato destro dove c'era mio padre c'era Giuseppe Calò c'era Matteo Motisi c'era Salvatore Rina c'era Giuseppe Greco Scarpa e gli altri tre sono stati invitati a entrare nella sala gioco sala pranzo quella che c'era e subito dopo appena hanno strangolato Rosario Riccobono è uscito mio padre e ci ha dato subito ordine di eliminare gli altri e subito dopo sono stati eliminati ma questa eliminazione del Riccobono fu preceduta da una discussione con lo stesso fu subito strangolato ma credo subito ne ho avuto il tempo forse di capire di che si giattava appena arrivato subito si è sono stati due minuti un minuto cioè si figura è mio padre sono entrati con la scusa di salutarlo è stato strangolato subito mio padre è uscito addirittura rimproverandoci c'è che aspettate c'è muovetevi e quindi lei non era presente nella stanza dove è stato ucciso dove è stato strangolato Riccobono Rosario e chi era presente nella stessa stanza nella stessa stanza c'era come ho detto Salvatore Rina Bernardo Busca mio padre c'era Giuseppe Grieco Scarpa Nene Geraci Giuseppe Giammo Gambino Antonio Geraci forse Filippo Lanino non mi ricordo se è rimasto fuori c'è assieme a loro e è venuto con noi non mi ricordo il ruolo di Filippo Lanino e quindi l'hanno fatto loro non l'ho visto naturalmente chi lo strangolò chi lo ha chi lo ha fatto Senta quel giorno era presente lei ha fatto riferimento a determinati nomi a determinati soggetti era presente anche Maniscalco Maniscalco Giuseppe sì che Di Maggio non l'aveva mai accusato e lei lo ricorda come presente a prescindere del fatto che ricorda che Di Maggio non l'aveva accusato neppure lei aveva parlato sì ha detto sì ne aveva fatto riferimento a Maniscalco Giuseppe in dato dietro c'era Maniscalco Giuseppe e Giovanni Motisi che erano abbastanza robusti e forse hanno pensato se non ricordo male a Cannella che era pure una persona robusta quindi ci hanno pensato subito loro per strangolarlo Senti dopo che vostro padre vi ha dato la disposizione di sbrigarvi con riferimento agli altri tre cosa è avvenuto? Che è avvenuto? che ripeto il Maniscalco e il il Motisi Giovanni Motisi e qualche altro hanno strangolato a questui io Bernardo Bomarito forse Totolazio o Giuseppe Grigento ripeto non glielo so dire abbiamo pensato io ho strangolato a Michele Micalizzi a Totuccio Micalizzi poi c'è l'altro Cannella Giuseppe Grigento Salvatore Lazio non mi ricordo cioè comunque subito ci siamo dati da fare poi è entrato pure il Antonino Geraci e subito l'abbiamo strangolato quindi in quel frangente quante persone sono state uccise complessivamente? in quel momento quattro persone il Riccobono più i tre accompagnatori sì uno in una stanza e tre in un'altra stanza vuole far indicare il nome questi accompagnatori vuole ripetere chi è stato ucciso quindi oltre il Riccobono Rosario e a Michalizzi di quel parlato Totuccio Michalizzi e ne ha parlato Totuccio Michalizzi Cannella e Savoca Cannella chi? signor Presidente io l'avevo visto per la prima volta non mi ricordo il nome di Battesimo va beh Cannella e Savoca senti immediatamente dopo questo quadruplice strangolamento cosa è avvenuto lei cosa ricorda? dopodiché ci avevamo già premonite dell'acido e subito pensiamo di andargli a mettere sempre in due fusti d'acido vicino al torrente che si trova alle spalle di questo caseggiato per poi quando sarebbero sciolti avremmo buttato tutto nel torrente per fare meno fatica dopo dopo tempo dopo tempo è successo che questo questi bidoni d'acido dopo un'oretta una mezz'oretta quello che succhiera cioè questi questi bidoni d'acido con quei colpi dentro non non ribolleva cioè non 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 faceva effetto vuoi perché la temperatura era bassa vuoi perché eravamo incompetenti e avevamo messo i fusti proprio vicino al torrente dove ci passava l'acqua quindi raffreddava il materiale che aveva bisogno di calorie quindi abbiamo dovuto abbiamo dovuto diciamo operare un pochettino per poter arrivare a fare partire questo acido dopodiché abbiamo sento che c'era questo problema di ricordarsi che era mancanza d'acido abbiamo pensato al di maggio di andare da un certo Ficarrotta il nostro compaesano elettricista che è l'elettricista di 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 subito sono arrivato da Punta Raisi e sono ritornati indietro lei come fa a dire che le auto sono state lasciate a Punta Raisi perché credo se non ricordo mai sono stato io indicare a Di Maggio e a Analia di andare a lasciarla tipo che come se questi sarebbero partiti per chissà dove ci avrebbero lasciato le macchine e là se ne sono andate e ha compagnato le famiglie e allora il Di Maggio venne incaricato per il reperimento di ulteriore acido quando tornò da Punta Raisi dopo che tornò da Punta Raisi era assolto questo problema si incaricò di andare a recuperare questo acido Sente chi riaccompagnò il Di Maggio a D'Amusi dopo che questi aveva lasciato l'autovettura che lui conduceva a Punta Raisi il Cerace e il Nania con quale autovettura sono tornati con la con la Volvo la Volvo di chi era di Filippo Nania Nania quando tornò con il Geraci e con il Di Maggio restò sul posto e quindi partecipò era presente anche quando arrivò lo scaglione o andò via subito il Nania no quando arrivò venne accompagnato il Di Maggio subito dopo non c'era più bisogno di loro hanno salutato e se ne sono andati a chi si riferisce usando il plurale oltre a Nania chi è che se ne è andato e se ne è andato poi anche Nene Geraci il vecchio nel frattempo la giornata si era rimessa al bello o continuava a piovere? no quasi tutta la giornata fu questo più avvicinare in maniera soffice senta questi bidoni che nei quali vennero questi fusti nei quali vennero infilati quattro cadaveri quanti erano complessivamente i bidoni? due e quindi furono infilati due cadaveri in ciascun fusto si chi si occupò di spogliare i cadaveri? ma quelli che eravamo rimasti poi là io a Grigento Lazio Bernardo mio marito mio cugino Vito Brusca mio zio Mario Giuseppe Grigento Genovese Giovanni Genovese Salvatore che non ne avevo menzionato poco fa Mariscalco quelli che eravamo ci siamo dato un po' della fa di tutti senta questi fusti lei ha detto mi pare di avere così capito furono messi sul retro rispetto a questo caseggiato a U lo conferma? si il posto dove furono posati questi fusti era all'aperto o era sotto al chiuso? no i fusti erano posizionati all'aperto cioè vicino proprio al torrente tant'è vero che il torrente essendo che più vicinava l'acqua ingrossava e andava a toccare i fusti e quindi non faceva ribollire l'acido e li abbiamo dovuti risalire un pochettino verso il terreno senta ma a questo punto dove furono collocati questi fusti con dentro due cadaveri ciascuno per ciascun fusto era visibile dalla pubblica via? dalla via? si no completamente erano proprio in campagna totale cioè alle spalle del caseggiato all'interno della proprietà a distanza di quanto tempo dall'inizio di questo dissolvimento di cadaveri vi siete accorti che quel giorno questa operazione di squagliamento non andava bene? ci siamo accorti che con l'esperienza di Triccobono e di inserirlo e di di maggio era avvenuta nell'arco di di tre ore due ore e mezzo quello che era e qua ancora era passato un'ora e un'ora e mezzo e non prendeva spunto quindi siamo andati subito al ripare dice lei il di maggio è andato a prendere dell'altro acido dopo quanto è arrivato il di maggio con l'altro acido che avete immagino fatto versato nei fusti ma guardi in un paio d'oro che ha dovuto andare da Musi a San Giuseppeato in San Giuseppeato sono andati a Palermo con il furgone quindi aveva perso un'ora e mezzo due ore quando è arrivato il scaglione lei ha fatto riferimento al fatto che poi arrivò lo scaglione il di maggio era già tornato da Palermo con l'ulteriore acido quando arrivò il di maggio con l'ulteriore acido già il scaglione si trovava pure dentro il fusto dentro il fusto il di maggio non ha visto niente dello scaglione però ha visto e sapeva senta con chi è arrivato lo scaglione da Palermo con Raffaele Ganci ma chi era questo scaglione intanto come si chiamava scaglione come San Vatole Scaglione detto il pugile allora era rappresentante della famiglia della noce e quindi arrivò con chi con Raffaele Ganci Raffaele Ganci era all'epoca della stessa famiglia sì dalla stessa famiglia era con la stessa scusa per fare una mangiata verso che ora arrivarono a Dammusi Raffaele Ganci e Salvatore Scaglione intanto le 11 11 e mezzo questo prima di mezzogiorno perché venne eliminato quel giorno subito dopo a Rosario Riccobono anche Salvatore Scaglione il pugile perché anche con sui era ritenuto vicino ai cosiddetti scappati quello che so io poi c'era pure forse qualche altro problema di assi però che particolari non li so in particolar modo perché era ritenuto vicino alle bontate inserirlo badalamenti a questo gruppo quindi ritenuto inaffidabile oggi ci dobbiamo occupare dell'omicidio di Riccobono e Scaglione lei ha fatto poc'anzi riferimento a questo omicidio lei ha parlato del 1982 ricorda il periodo esatto del 1982 novembre come fa a distanza mi scusi Maniscalco come fa a distanza di tanti anni a dire che si trattava di novembre del 1982 perché è stato diciamo questo è un omicidio che ricordo con particolare perché sono stati i primi il primo sangolamento che ho fatto io e quindi è stato in questo periodo diciamo che sono stati diciamo ho saputo che poi si sono fatte diversi omicidi in questo giorno nella provincia di Palermo ma lei cosa ricorda? lei intanto dove sono avvenuti questi omicidi esattamente? stiamo parlando degli omicidi di Riccobono e di Scaglione dove sono stati consumati? incontrata da Musi dove era latitante Bernardo Bruschi ma incontrata da Musi ma esattamente dove? questa era una proprietà del dottore Barbaro San Giuseppe quindi è vicino a San Giuseppe ato proprietà del dottore Barbaro il dottore Barbaro che c'entra tutto questo? era il proprietario della casa? no si il proprietario della casa del terreno ma chi ne aveva la disponibilità? delle case del dottore gli dicevamo le case del dottore Barbaro in questa località ma chi aveva le case la disponibilità di queste case di chi era? quello che so io è che il fratello di Mario Brusca Salvatore Brusca aveva un congiaccio di affitto di questa di questa proprietà e ne soffruiva Bernardo Brusca però c'era un certo Lazio Salvatore che faceva da amministratore coltivava il vigneto coltivava diciamo si occupava di gestire sia la casa che è il terreno a che distanza si trova questo caseggiato incontrato da Musi da San Giuseppe Iato? a pochi chilometri diciamo dal paese si vede non lo so in linea d'aria ci sono due chilometri però andando per via diciamo per la strada ci saranno quattro chilometri ma come ci si arriva uscendo da San Giuseppe Iato? intanto da dove si esce? ci sono diverse entrate per accedere in questo territorio cioè prima si andava dallo scorrimento veloce che c'era una stradella interpoderale e si andava e poi normalmente si va scendendo da San Giuseppe Iato per le scuole dove ci sono le scuole agrarie diciamo noi nel paese la scuola agraria c'è questa strada che porta in questo in questa località da Musi che va in questa zona che è ora una zona di velleggiatura diciamo vestiva del paese senta lei quel giorno mi dica dica diciamo se ci va da sia da San Cipurrello che c'è il macello praticamente dove il macello comunale e accanto al macello c'è questa strada che è oggi asfaltata e si va diciamo in questa zona che è da Musi sia da San Giuseppe che da San Cipurrello si può accedere in questa località senta lei ha detto che ha partecipato a questi omicidi ma lei si trovava lì per caso quel giorno in cui vennero strangolati Riccobono e Scaglione no no mi hanno me l'hanno fatto sapere il giorno prima chi è che gliel'aveva fatto sapere non mi ricordo di preciso ma di solito mi davano diciamo questi ordini mio cognato come si chiama suo cognato la mia Genovese Salvatore quindi questi ordini gli avevano il suo cognato o mio cognato o Di Maggio o Brusca Giovanni loro erano quelli che mi davano diciamo questi ordini e mi hanno detto che di tenermi a disposizione per domani che avevano bisogno di me in questo ma le spiegarono perché di che cosa avevano bisogno esattamente no e che cosa le dissero cosa le fu detto domani mattina di essere presente la o di andare la in questo posto la dove c'era da fare qualcosa in contrada e che cosa avvene intanto che giornata era una giornata di sole era una giornata calda era una giornata in cui pioveva grandinava che giornata era come da un punto di vista atmosferico se se lo ricorda era sì una giornata diciamo bruttina diciamo pioveviginava c'era il tempo brutto così una giornata brutta diciamo grigia una giornata diciamo invernale quando lei è arrivato incontrata da Musia chi ha trovato sul posto quando sono andato là c'era tutta quello che ricordo c'erano quasi tutte le persone del mandamento di San Giuseppe Ado c'era Bernardo Brusca c'era Mario Brusca c'era Totorrina c'era un certo Scarpa che poi è greco è un killer di Palermo c'era Giuseppe Agrigento c'era c'erano quasi tutte le persone del mandamento non ricordo di preciso se non lo ricordo non l'ho visto materialmente però so che erano là c'era mio cognato c'era mio suocero c'era Giuseppe Brusca Vito Brusca tutti quelli della famiglia di San Giuseppe Ado e quando lei è arrivato le fu spiegato il perché si trovavano tutte quelle persone lì non le hanno detto niente sì mi hanno detto che dovevano portare delle persone dovevamo strangolarle chi è che glielo disse chi è che le disse devono arrivare delle persone ci deve aiutare a strangolarle sì chi è che glielo disse la Bernardo Brusca che era là siamo che era là nella stanza siccome in questa in questa casa c'erano due c'era un piazzale con con due entrate e quindi io quando sono entrato sono entrando dal lato destro che c'è una porticina e sono entrato là e entrando là c'era Totorrina Bernardo Brusca Mario Brusca Giuseppe Brusca e altre persone che non ricordo che erano là presenti questo scarpa e mi hanno detto che dovevano venire dovevano portare delle persone e li dovevamo strangolare e lei a che ora arrivò a che ora è arrivato lei quella mattina a Dammusi ma buon'ora penso le 8 forse magari prima e ha aspettato molto tempo l'arrivo di queste persone queste persone poi arrivarono sì a che ora arrivarono circa attorno alle 11 mezzogiorno chi arrivò in sostanza quante persone arrivarono arrivarono e è arrivato Antonio Geraci con Nania di Partenico dell'armandamento di Partenico assieme a loro sono arrivate altre macchine che poi ho ricordato diciamo successivamente non le ricordavo in primo tempo però poi ho ricordato il tipo di macchine che erano e tutto tramite il pubblico ministero che mi ha interrogato ha detto se c'erano queste macchine io ho detto sì ma quante macchine arrivarono allora tre macchine era una Volvo grigia dove c'era Antonino Geraci e Nania poi c'era una Golf una Golf e un Mini Minor ma la Golf di che colore era? se ricordo bene è bianca la Golf e la Mini Minor e là c'erano e la Mini Minor di che colore la Mini Minor di che colore era? non lo ricordo il colore della Mini era bianca oppure scura? scura scura quindi arrivarono la Golf era bianca come dice? la Golf era bianca e la Volvo di che colore era? grigia metallizzata e la Mini Minor era scura senta arrivarono queste tre macchine da solo o arrivarono insieme a queste tre autovetture altre autovetture? no queste tre ricordo io senta lei ha parlato di Geraci Nenè mi pare di avere capito e di Nania ma chi sono questi Geraci Nenè e Nania? sono uomini d'onore del mandamento di Partenico lei li aveva mai conosciuti prima di quel giorno? sì sì e quindi li erano stati li avevo conosciuti e li erano stati formalmente presentati come uomini d'onore? sì ma di chi sta parlando? Geraci Nenè aveva un particolare ruolo a Partenico sì diciamo il cugino aveva un particolare il cugino di Antonio Geraci questo era il giovane quello che è venuto là mentre diciamo Nenè quell'anziano era il capo mandamento della famiglia di Partenico era il cugino e questo Nania era pure della famiglia di Partenico? sì sì era sempre io spesso lo vedevo assieme al capo mandamento a Nenè Geraci ma come si chiamava questo Nania di nome? Filippo senta ma che lavoro faceva Nania? il costruttore e Geraci Antonino questo giovane? Geraci di preciso non lo so ma so diciamo che lavorava con dei preziosi cioè gli senta lei ha fatto riferimento a un interrogatorio del pubblico ministero che l'ha interrogata su questi fatti si riferisce un interrogatorio avvenuto circa un mese fa sì e che risca alla corte lei ha detto io prima non me lo ricordavo poi me lo sono ricordato cosa è avvenuto esattamente lei era stato invitato adesso adesso oggi le ho fatto la domanda in ordine alle autovetture lei ha detto io prima non me lo ricordavo che cosa è successo esattamente non ricordavo al momento dell'interrogatorio le autovetture che tipo erano ma che cosa ricordava invece che sono arrivate con delle macchine e al momento non ricordavo il tipo di autovetture poi successivamente il pubblico ministero dice può essere dice se le dico che erano questo tipo di autovetture lei conferma e io ho detto sì conferma ma dopo che le ha detto il pubblico ministero lei l'ha poi ricordato che si trattava di queste tre autovetture o ha preso atto soltanto di ciò che le ha detto il pubblico ministero no 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 ho ricordato che erano queste autovetture senti quindi arrivano queste tre autovetture in una ci ha detto che erano il Geraci Nenè e il Nania Filippo e con Geraci Nenè e Nania Filippo che a quanto lei ha detto erano sulla Volvo grigio metallizzato viaggiava altra persona altre persone no mi sembra no mi sembra di no e nelle altre due autovetture abbiamo detto una Golfo bianca e una Mini Minor di colore scuro quante altre persone viaggiavano quattro erano in tutto se ricordo bene queste quattro persone chi erano lei è in grado oggi di ricordarlo si ricorda intanto chi erano c'era il ricco il ricco buono e ecco ho dimenticato di Giacomo Gambino che c'era pure assieme a loro il gambino che ha portato è venuto assieme al ricco buono e altri tre giovani che poi ho saputo che erano Michalizzi Cannella e Savoca e Savoca senta ma lei ricco buono prima di quel giorno lo aveva già avuto modo di conoscere no no quindi quella era la prima volta che lei lo vedeva si e i tre giovani che erano con ricco buono lei ha detto i poc'anzi Michalizzi Savoca e Cannella prima di allora li aveva già visti no le risulta che il ricco buono e queste altre tre persone cui lei ha fatto testa e riferimento erano uomini d'onore successivamente ho saputo che erano del mandamento diciamo di appartenenza del ricco buono però non le ho avuto mai presentati come uomini d'onore comunque lei li ha visti scendere dalle autovetture soltanto quindi non gliel'hanno presentata al momento dell'arrivo senta ma il Gambino Giuseppe Giacomo Gambino Culea ha fatto un riferimento adesso era in macchina con chi? con Nania e col Geraci oppure era in macchina con il ricco buono in sostanza da quale macchina c'è opposizione ha detto che Nania e Geraci non è la Volvo da soli io le sto chiarisco ma l'ha detto presidente l'ha detto ha detto poco fa addirittura che era con il giudizio e stava con il giudizio no poi leggeremo assieme abbiamo detto il maniscalco ha ricordato la presenza prima ha parlato di Nania e Geraci poi ha parlato di quattro persone ricco buono più tre e poi mentre si parlava di queste quattro persone ha aggiunto a ricordo adesso è venuto anche Giacomo Gambino io sto chiedendo Giacomo Gambino di cui si è ricordato per ultimo in quale delle tre autovetture era? non lo ricordo di preciso ma credo che era con con di preciso non lo ricordo ma credo che era con Nania e e cosa e Geraci cioè sono sicuro che è venuto con loro con le macchine assieme a loro perché precedentemente ho saputo che c'era un motivo perché sono venuti anche questi di Partinico perché nell'appuntamento non si fidavano di dareci l'appuntamento e lo spiega la Corte perché sono venuti questi di Partinico lei cosa ha saputo dopo? successivamente ho saputo questo che visto il clima che c'era e visto diciamo il personaggio qual'era Saro Riccobono che si diceva nell'ambito che aveva aveva conoscenze aveva conoscenze con dei carabinieri oppure aveva delle diciamo aveva rapporti con i infiltrati con i carabinieri diciamo e in un certo senso lui poteva aver detto che questo appuntamento dove dove doveva diciamo la località dell'appuntamento si è scogitato questo piano di darci un appuntamento a Partinico e poi successivamente da là portarlo incontrato da Musi diciamo questo è stato il motivo che ho saputo successivamente perché erano venuti Nania e Gerace e Antonio a accompagnarlo loro per darci diciamo una falsa diciamo pista diciamo darci un indirizzo e poi portarlo in un altro perché si diceva nell'ambito che lui poteva magari dirlo ai carabinieri o a fare una soffiata diciamo in un certo senso si aveva questo timore un attimo è caduto un collegamento con la saletta centro servizi si può riprendere si può riprendere si si può riprendere senta Maniscalco lei ha fatto riferimento per ultimo a Gambino Giacomo Gambino chi è questo Giacomo Gambino di quello che lo conosco io era il capomandamento della famiglia di della Noce di Partano della Noce e il cognato di di Raffaele Ganci Faluzzo che poi successivamente è venuto quindi è cognato di Raffaele Ganci che cosa risulta lei riguardo al novembre del 1982 non quello che è avvenuto dopo ma fino a quella data Stugambino Giacomo Giuseppe Stugambino Giacomo lei l'aveva già visto altre volte l'aveva conosciuto o fu quella l'occasione in cui l'ha avuto presentato per la prima volta quella è stata l'occasione quindi prima di allora lei non l'aveva visto no no poi mentre il Gang dica dica mentre mentre Ganchi ricordo di averlo visto qualche altra volta dopo averlo visto a Gambino Giacomo in quell'occasione stiamo parlando del novembre dell'82 con Trada Dammusi ha avuto modo di vederlo in altre occasioni successive sì ricordo che l'ho visto qualche altra volta incontrare a Dammusi mentre a volte andavo a trovare a Bernardo Brusca sempre lui in questa latitante e l'ho incontrato qualche altra volta lui senta lei ci ha detto che subito dopo ha capito è stato spiegato perché era stato il Riccobono in un primo momento indirizzato a Partinico per evitare che lo stesso potesse riferire senta le risulta che in effetti quella mattina prima di venire a Dammusi il Riccobono si era regato quindi a Partinico sì perché l'hanno diciamo l'hanno portato loro diciamo Antonino Geraci e Filippo Nanini che sono l'onore del mandamento di Partinico ma quelle altre e poi successione quegli altri tre giovani che erano con il Riccobono venivano con lui da Palermo ha saputo questo lei sì sì quando sono arrivati che cosa è avvenuto descriva alla corte con maggiore precisione possibile ciò che lei ricorda in modo chiaro però non tanto ciò che invece non è preciso nei suoi ricordi cosa avviene quando arrivano queste tre autovetture da cui sono scesi complessivamente sei persone che diciamo nella prima prima stanza è entrato Rosario Riccobono e Gambino in questa stanza ripeto c'ero io Brusca Reina Mario Brusca e Bernardo Mario Brusca Giuseppe Brusca e Scarpa e altri che in un momento non ricordo è entrato in questa stanza mentre nell'altra stanza mi scusi un attimo quindi lei era nella stanza diciamo con le persone più importanti quel giorno lì sì ma lei ha detto che non aveva una particolare carica come mai era con i più importanti ero 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 là perché Reina mi ha detto di stare vicino a lui per per darci una mano di stare vicino a lui per per aiutarlo diciamo siccome io sono abbastanza alto e possente c'era questo particolare volevano questo particolare aiuto per immobilizzare la persona che dovevamo poi strangolare quindi è entrato Riccobono con Giacomo Gambino e che cosa ci ha detto le persone di cui si ricorda la presenza e che cosa è avvenuto è avvenuto che appena è entrato lui diciamo lo abbiamo immobilizzato per lui si era prestato per salutarlo noi lo abbiamo subito immobilizzato per le braccia e il reino ha detto dice che riferendosi a lui gli ha detto dice hai finito la tua corsa è finita dice hai finito di mettere tragedie e fare diciamo e fare delle tragedie e e queste sono state diciamo le parole che gli ha detto Reina e il Riccobono che ha detto il Riccobono non voleva parlare però non ci è stata data la possibilità di parlare e poi l'abbiamo strangolato come l'avete strangolato il Riccobono con una una corda che già avevamo preparato una corda e gliel'abbiamo messa al collo e l'abbiamo strangolata chi è che gliel'ha messa al collo io assieme a altri l'aveva Mario Brusca questa corda e l'abbiamo messa al collo e l'abbiamo strangolata quindi materialmente chi è che ha strangolato Riccobono io Mario Brusca Bernardo diciamo noi successivamente quando lui l'abbiamo messo a terra abbiamo sentito uno sparo che veniva dalla stanza accanto e il scarpa sentendo questo sparo ci siamo premurati di diciamo di avvicinarci a questa stanza che era vicino e abbiamo capito che era la stanza dove sono andati questi altri tre che accompagnavano il Riccobono abbiamo da dietro la porta abbiamo chiesto che è successo che è successo non ho risposto niente state tranquille mentre hanno aperto la porta a Salvatore Lazio era partito un colpo della pistola che aveva bucato il tetto accidentalmente era partito un colpo della pistola e così ci siamo ma queste tre persone che sono arrivate con Riccobono e che quindi sono entrati in un'altra stanza sono state che fine che cosa è successo a queste altre tre persone quelli che erano nella stanza accanto li hanno stangolati pure nella stanza accanto c'era Lazio c'era chi c'era non ho capito Lazio 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 come come Totò è quello che ha sparato è quello che ha sparato il colpo di pistola sì e poi chi c'era oltre a Lazio Totò io diciamo non sono non mi sono addentrato nella stanza perché diciamo ero in quell'altra però c'erano tutte le altre persone che erano quella mattina là c'era Agrigento Giuseppe c'era Dimaggio c'era Brusca Giovanni però io non diciamo in questa stanza non non sono entrato perché ero in quell'altra quindi loro diciamo quelli materialmente che li hanno strangolati io non l'ho visto materialmente che li ha strangolati perché ero ripeto nella stanza accanto quindi in sostanza mentre voi strangolavate Ricobono gli altri strangolavano gli altri tre senti in questo momento in questo contesto cioè dopo essere arrivati con le autovetture Geraci Nenè e Nannia Filippo erano entrati con voi nella stanza nella prima stanza nella seconda stanza se ne erano andati che cosa è successo no se ne erano andati se ne erano andati e che successivamente ho saputo che siccome dovevano venire altre persone dovevano portare via le macchine che erano diciamo con cui erano venute queste persone quindi si sono affrettati a portarsi le macchine di queste persone e poi ho saputo che li hanno portati all'aeroporto di Punta Rai comunque lei dopo averli visti scendere dall'autovettura non li ha più visti quel giorno né a Nannia né a Geraci Antonino no poi ho saputo che no lei li ha più visti quel giorno incontrata da Musi dopo averli visti scendere dall'autovettura quando è arrivato il ricobono se non non ricordo male li ho rivisti li ho rivisti che hanno accompagnato Di Maggio là hanno riaccompagnato Di Maggio vabbè ora su questo ci torniamo mi dicono completiamo invece il discorso degli strangolamenti quindi voi avete ucciso il ricobono in una stanza e gli altri tre accompagnatori di ricobono venivano uccisi nella stanza venivano strangolati nella stanza accanto cosa avviene di questi cadaveri che cosa ne fate momentaneamente diciamo si mettono da parte perché aspettavamo che veniva dovevano venire altre persone e così e dove le avete messi in che senso le avete messi da parte io non l'ho vista di preciso dove le hanno messi però diciamo e li hanno messi in un posto dove diciamo non era visivo diciamo nascosti in qualche angolo dal dietro della casa perché aspettavamo altre persone che dovevano pure strangolare ma che aspettavate maniscalco aspettavamo a scaglione ma lei l'ha saputo dopo totto scaglione lei l'ha saputo dopo che doveva arrivare si chiamava totto scaglione o glielo dissero subito che doveva arrivare totto scaglione no 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 e me l'hanno detto che doveva arrivare questo scaglione che era un ex fuggile e per questa occasione anche il rinamilista di stare vicino a lui e Bernardo Brusca che era una persona possente era una persona abbastanza diciamo abbastanza forte e quindi dovevamo immobilizzarlo subito dopo appena arrivasse senta ma questo scaglione lei prima di allora prima di quel giorno l'aveva visto già l'aveva avuto modo di conoscere no no e poi è arrivato questo scaglione si dopo quanto tempo mi dica è arrivato di preciso non io lo so dire ma penso qualche oretta e mezza due ore dopo è arrivato con Raffaele Ganci ed è entrato là nella stanza sempre nella prima stanza dove ero io con Brusca Rina ed altri che ho detto e così subito dopo appena è entrato lui lo abbiamo immobilizzato e lui sorpreso ha detto che cosa c'è perché che mi volete fare e Brusca e Rina gli ha detto che anche lui aveva gli aveva detto che se non uccideva a lui e a Riccobono non si sarebbe più chiamato Toto Rina perché ce l'aveva non lo so perché ce l'aveva con loro perché in quel periodo c'è stata la guerra e loro non gli erano fedeli non lo so di preciso com'era l'intereggio e gli ha detto dice anche ora farai la fine di quell'altro cornotazzo che si riferiva a Riccobono e lui voleva parlare dice fatemi parlare almeno fammi dire qualcosa ti posso dire che sono innocente non c'è niente da parlare così ci ha detto di metterci pure la corda al comune così deve parlare un poco più forte Maniscalco senta quindi in quella stanza quando è stato ucciso quando è entrato lo scaglione chi erano presenti vedete di ricordarselo se se lo ricordo ovviamente c'era Bernardo Brusca Totorrina io Scarpa Mario Brusca e poi mi sembra che in quella stanza è venuto pure Giuseppe Grigento in questa stanza per uccidere pure la scaglione non lo ricordo di preciso comunque queste eravamo senta quando lo scaglione è arrivato la giornata era ancora grigia pioveva ancora sì sì fino al pomeriggio è piovuto c'era qualche leggermente qualche scarita ma poi pioveva tutto il pomeriggio senta ma in quel momento quando è arrivato scaglione si ricorda con che auto è arrivato è arrivato ha detto lei con Ganci con Raffaele Ganci si ricorda l'auto con Raffaele Ganci con che auto sono arrivati non me lo ricordo senta e quando è arrivato Raffaele Ganci sono arrivati Raffaele Ganci e lo scaglione le tre autovetture che erano arrivate prima erano ancora lì? no 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 le avevano già portate via all'aeroporto ho saputo che l'hanno portata appunto a Rice chi le ha portate via lei è stato ha saputo ha visto chi ha portato via queste autovetture? sì c'è il Di Maggio e Nania Filippo Nania e Geraci il giovane quelli che erano venuti con loro lei ha detto che poi Nania che poi ha rivisto il Di Maggio a distanza di quanto tempo è ritornato Di Maggio a Dammusi? un po' un'oretta e mezza due ore non lo ricordo di preciso più o meno questo tempo e con che auto è tornato il Di Maggio a Dammusi credo con la Volvo di di Nania e quindi con il Di Maggio è tornato anche il Nania? sì non ricordo di preciso ma penso che è andata così perché capisce a distanza di tanto tempo certe particolari e sfuga senta ne eravamo rimasti che i tre primi cadaveri li avevate messi da parte lei non aveva partecipato e li avevano messi in modo che coloro i quali arrivavano dopo non li potessero vedere subito poi viene ammazzato scaglione quindi siamo a quattro cadaveri che ne avete fatto di questi quattro cadaveri? il Lazio a quanti fatti dovrebbero essere cinque voi come stessi? ha ragione Presidente erano quattro più uno cinque quindi questi cinque cadaveri che ne avete fatto? e già avevano dei predisposto dei bidoni di questi per il gasolio da 200 litri gasolio o bidoni questi per l'olio fusti in lamiera non so e dove erano stati messi questi bidoni dove erano stati messi? li avevano diciamo predisposti accanto alla casa che c'è un piccolo ruscello e le avevano messi là quindi il Lazio e gli altri si sono dati da fare per spogliare i cadaveri per metterli rispettivamente nei fusti nei fusti contenente l'acido lei ha partecipato a questo ma di scalco lei ha partecipato a questa operazione nello spogliare i cadaveri e nell'infilarli dentro i fusti si ero là però gli davo qualche mano ma ero diciamo là si ho partecipato per spogliarli no diciamo è stato in una prima fase successivamente ho dato una mano per metterli nei bidoni senta ma questi bidoni quindi erano all'esterno rispetto ai magazzini si si c'era in mezzo a dei alberi chiedo scusa chiedo scusa presidente mi può dare un attimo la parola avvocato Rizzo io volevo invitare il pubblico ministero a fare delle domande meno suggestive o comunque quanto meno che non contengano la risposta tante volte noi riceviamo una risposta da parte del collaboratore di si o no o si effettivamente è così quindi ciò presuppone che la domanda contenga la risposta quindi quanto meno fare delle domande meno suggestive è una sollecitazione al presidente per una verifica anche per la corte diretta in esito alla descrizione a verificare se si tratta di una domanda successiva mi scusi mistero ascolta mi scusi presidente sono l'avvocato fileccia e facendo seguito all'osservazione fatta all'opposizione fatta dalla collega Rizzo devo dire quindi è un'opposizione non è un invito è un'opposizione una posizione rimarcata che rimarco perché proprio faccio riferimento all'ultima domanda lasciamo stare tutte quelle che ha fatto in precedenza mi scusi mi faccia parlare al presidente riferimento all'ultima domanda il pubblico ministero ha così formulato i bidoni erano fuori dalla abitazione dalla casa e la risposta è già certa io ritengo che la risposta ho detto i bidoni erano fuori o erano dentro mi scusi la domanda più correttamente doveva essere dove erano i bidoni così i bidoni erano fuori o erano dentro Maniscalco i bidoni erano fuori lo sto dicendo io e dove esattamente sono fuori dalla casa e dove esattamente erano in un ruscello c'era un ruscello con l'acqua i bidoni erano confinanti con questo ruscello con l'acqua stavo spiegando questo fatto sono fatti vissuti in prima persona atrocemente vissuti che uno in certi particolari non vorrebbe ricordarli però la realtà e questo mio impegno di collaborare con la giustizia a qualsiasi prezzo che voglio mantenere fino in fondo preciso voglio sono emozionato perché non capita tutti i giorni uno parlare di questa atrocità purtroppo li ho commessi però quello che dico penso che credo che sia la verità non ho niente da nascondere senta Maniscalco torniamo ai bidoni ha detto che erano torniamo ai bidoni ha detto che erano all'esterno dei locali in un ruscello sì perfetto successivamente erano 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 poggiati erano posati erano collocati all'interno di questo ruscello sì c'è opposizione presidente siamo sempre allo solito punto ha detto poc'anzi che erano posti adiacenti al ruscello al confine del ruscello opposizione accolta la domanda l'acqua del ruscello toccava tutto apposta Maniscalco l'acqua del ruscello toccava o non toccava questi bidoni di quello che mi ricordo io quando abbiamo posato questi bidoni era l'acqua quasi toccava i bidoni ma siccome successivamente il ruscello si è ingrossato perché piovigginava e cose poi l'acqua ha incominciato a toccare i bidoni difatti l'acido che era nei bidoni non ha potuto disciogliere alcuni corpi perché visto questo diciamo ingrossamento del ruscello che andava l'acqua a toccare i bidoni abbiamo dovuto spostare i bidoni e metterli in un rialzo più più distante dall'acqua del ruscello quindi erano stati questo volevo dire quindi erano stati sì erano stati poggiati accanto mi lascia finire che erano stati poggiati accanto al ruscello e poi il ruscello si è ingrossato sì e li abbiamo dovuti spostare perché l'acido a contatto con l'acqua non raffreddava l'acqua raffreddava quest'acido e non scioglieva i cadaveri senta ma nel posto dove sono stati collocati questi bidoni che a quanto abbiamo appreso erano un posto esterno rispetto ai magazzini ci pioveva cioè l'acqua entrava anche l'acqua piovana dentro i bidoni o no sì sì fuori erano pioveva quindi non so se abbiamo messo dei coperchi sopra questi bidoni non lo ricordo di preciso o i tappi stessi dei bidoni però non è che diciamo pioveva a diluvio diciamo piovigginava abbastanza senta maniscalco questo squagliamento di cadaveri che lei ci ha detto ha avuto degli allungamento dei tempi per l'acqua del ruscello ingrossatosi quanto è durato questo scioglimento dei cadaveri lei è stato presente per tutto il tempo in cui i cadaveri in questione si sono solti nei bidoni si sono rimasto fino a tardi fino a quando materialmente la buona parte dei cadavere diciamo si erano disciolti c'è stato pure un imprevisto che visto che quest'acido quest'acido perdeva tempo a disciogliere questi corpi e il il di maggio il di maggio su richiesta di persone più anziane che già sapevano diciamo che avevano fatto precedentemente questi lavori ha detto che ci voleva dell'altro acido quindi bisognava andare a procurare dell'altro acido per avere per materialmente sciogliere più per sciogliere più velocemente i cadaveri e quindi il di maggio è andato a San Giuseppeato dalla Ficarrotta per andare a prendere dell'altro acido questo Ficarrotta è un signore che ha un fa dell'elettrauto a San Giuseppeato ed era diciamo aveva a disposizione aveva disponibilità per trovare questo acido siccome lui era elettrauto e nello stesso tempo costruiva accumulatori per autovetture e quindi non so sono andati a Palermo per andare a comprare quest'acido assieme a Ficarrotta e successivamente poi lo hanno portato là incontrato da Musi fino diciamo nel tardo pomeriggio quindi faceva quando è terminata questa operazione di dissoluzione dei cadaveri che ore potevano essere lei ha parlato di tardo pomeriggio sì era quasi sera già era diciamo incominciava a fare buio fino a tardi senta Ganci Raffaele è arrivata abbiamo detto lei ha detto con il con lo scaglione Ganci è rimasto molto tempo a Dan Musio se ne è andato cosa le risulta lei cosa ricorda non lo so non è non è rimasto fino a quando abbiamo disciolto i cadaveri perché eravamo poi noi quelli del luogo che ci adoperavamo è rimasto un po' ma di preciso non so dire un'ora due ore hanno parlato fra di loro con Rina e Brusca diciamo le persone più importanti che non l'ha e poi penso che siano andate di preciso non lo ricordo però non l'ho visto più assieme a noi per di sciogliere i corpi senta sono stato distratto c'è un difensore ha un dubbio ma prima che gli ho chiesto il difensore glielo chiedevo ma quel giorno carabinieri non ne passavano da lì voglio dire avete messo i cadaveri all'esterno erano cinque erano cinque bidoni la preoccupazione è che passassero forse dell'ordine non l'avete valutata non ha detto che erano cinque bidoni c'è opposizione c'erano dei bidoni accanto a un ruscello che poi si è ingrossato e dentro questi bidoni c'erano cinque cadaveri non vi preoccupavate che passavano i carabinieri che precauzioni avete adottato c'è opposizione presidente sono l'avvocato D'Azzò il signor Maniscalco non ha mai parlato di precauzioni io ho chiesto se hanno adottato precauzioni col punto interrogativo la domanda va apposta perché è una domanda che pone il pubblico ministerio con riferimento alla modalità dei fatti che ha descritto le precauzioni sono state queste di mettere i bidoni in questo ruscello in mezzo agli alberi e quindi dalla strada a questo posto non si vedeva dove c'erano i bidoni no no ma la pubblica via la pubblica via a che distanza è da questo caseggiato dove si sono avvenuti questi strangolamenti ma diciamo dalla c'è la strada e poi successivamente c'è una salita per andare in questa casa che questa salita sarà 60 metri e poi sulla destra c'è l'entrata che è un altro 50 metri però diciamo dove abbiamo messo noi i fusti è più basso rispetto alla casa diciamo c'è un dirupo di un 5-6 metri forse più quindi è sottomesso rispetto alla casa però rispetto alla strada diciamo rispetto alla strada non si vede dove c'è questo ruscello senta quanti erano allora questi bidoni da 200 litri mi pare di aver capito che la mi pare di aver sentito che fossero di queste dimensioni quanti erano complessivamente i cadaveri abbiamo detto che erano 5 e i bidoni sì i bidoni se ricordo bene erano 4 perché due persone le abbiamo messo dentro un bidone due persone in un bidone quindi 4 complessivamente i bidoni sì se ricordo bene non vorrei sbagliare nello stesso istante che veniva ucciso Rosario Il Copono a Palermo Antonino Madonia capo della famiglia mafiosa di Resuttana procedeva ad eliminare gran parte dei membri della famiglia di Partano Mondello in un suo giorno i collonesi distrussero una delle più potenti famiglie mafiosi siciliane Salvadorina come al solito per giustificare l'omicidio di Rosario Il Copono fece espandere la voce in Cosa Nostra che era un traditore uno che prima o poi avrebbe tradito tutti in realtà Rosario Il Copono venne eliminato con tutta la sua famiglia mafiosa perché Dottorina non poteva conoscere i loro movimenti e soprattutto perché voleva far pagare a Dossaro il fatto di non essere schierato con lui già nella metà degli anni 70 quel giorno con Rosario Il Copono nella contrada di Damossi venne ucciso anche Salvatore Scaglione che era il capo del mandamento della noce Salvatore Scaglione era un altro capofamiglia che non si era schierato quando doveva con la fazione dei Collioresi di Damossi